Un progetto Kiko Shop Online, ovviamente il nome la dice tutta, insomma parliamo Kiko Shop Online, significa che? Allora sì, Kiko Shop, come dice il nome, è il canale online della Kiko, quindi la famosissima marca di prodotti per bambini. Io sono Federico Spila, sono il direttore generale di B2X che è l'azienda che cura la gestione di questo canale di commerce per conto di Arzana che è l'azienda che gestisce il marchio Kiko. Allora noi B2X, noi siamo un'agenzia che fa soluzioni di e-commerce per aziende terze, per aziende medio e grandi e abbiamo realizzato una nostra piattaforma di commerce, quindi siamo un'agenzia ma anche una società di informatica e gestiamo e-commerce a tutto tondo, a 360 gradi, quindi tutto quello che serve per gestire un canale di commercio elettronico noi lo riusciamo a coprire con questa nostra piattaforma che è fatta a moduli. Nell'ambito di Kiko Shop è un progetto che è partito ormai due anni e mezzo fa e su questo progetto noi abbiamo arricchito nel tempo la nostra piattaforma di molti moduli e molti servizi. Sul Kiko Shop oggi uno può, una mamma che vuole acquistare, può trovare un'esperienza di acquisto personalizzata e molto attenta al consumatore, può trovare l'abbonamento ai pannolini, può trovare il modulo della lista nascita perché voglio organizzare i regali, può trovare la gestione della carta fedeltà aziendale, l'integrazione con i negozi fisici per cui le esperienze di acquisto online e quella fisica sono unite e sono diventate un'esperienza di acquisto di brand. Può trovare il servizio del personal shopper, quindi come succede in un negozio normale che una mamma magari chiede alla commessa un po' di informazioni per capire un po' meglio, anche sul negozio online noi offriamo un personal shopper, la possibilità di chiedere da un esperto e di essere guidati un po' nell'acquisto e nella conoscenza dei prodotti. Quindi dei vantaggi sia per l'azienda che per i consumatori? Certamente, un altro modulo molto importante di cui noi andiamo molto fieri e di cui abbiamo dotato la nostra piattaforma informatica e quindi un modulo innovativo è quello che chiamiamo il marketing one to one, ovvero non esistono due consumatori uguali, non devono esistere due esperienze di acquisto uguali, quindi l'esperienza di acquisto sul sito è personalizzata quasi one to one, ovvero tutti i nostri clienti vengono con questo motore molto intelligente, vengono targettizzati, vengono fatti dei cluster in base ai loro dati storici, se hanno già acquistato, a cosa sono interessati, vengono quindi profilati e questi vengono uniti poi con la navigazione, quindi io so che un certo utente che sta navigando in questo momento cosa ha fatto prima e cosa sta facendo adesso ed esca a mostrare per questi utenti dei messaggi promozionali personalizzati e quindi una promozione che vede un utente e magari non la vede un altro e questo modulo ci sta dando tantissimi ottimi risultati dal punto di vista di performance, di vendite e di conversion rate sul sito. Grazie.